You got her involved just for that? Vito, you were an insensi. No, noi non siamo uomini. Siamo più che uomini. In questo mondo quel genere di cazzate serve solo a una cosa. Farti ammazza. Allora, sei pronto per il tuo destino? Allora, sei. Allora, sei. Allora, sei. Allora, sei. Allora, sei. Allora, sei. Allora, sei.